Ciao e benvenuto nella rubrica PDA, le pillole di Amazon. Ecco, oggi parleremo delle recensioni fake, ovvero una piaga alla quale Amazon ha deciso di dichiarare guerra esplicitamente. In particolare le recensioni fake sono tutte quelle acquistate dai seller tramite dei vantaggi, come ad esempio quello di rimborsare l'acquisto del prodotto. Quindi io faccio acquistare il prodotto, lo rimborso tramite Paypal o tramite diversi metodi, mi faccio rilasciare una recensione e quindi ho la mia bella recensione acquistata. Ecco, questo è vietato ed è un'alterazione del mercato, soprattutto se è fatta in modo seriale e con grandi volumi. Esistono infatti dei gruppi su Facebook che si occupano di questo, esistono dei siti che si occupano di questo. Tuttavia Amazon con i suoi sistemi ha la possibilità di tracciare queste situazioni e cancellare tutta una serie di feedback presenti sul tuo account. E addirittura può arrivare anche a disattivare i tuoi privilegi di vendita inviando delle comunicazioni di questo tenore. Abbiamo riscontrato che hai promesso vantaggi o hai dato rimborsi in cambio di recensioni, di conseguenza ti disattiviamo l'account. Chiarisci quali recensioni hai acquistato, come le hai acquistate, quali sono le recensioni che non sono reali, chi sono i soggetti che te le hanno lasciate e così via. Quindi bisognerà mandare un'ottima notazione con tutte queste informazioni e cercare di ripristinare i privilegi di vendita. Mi raccomando, in passato era possibile, oggi con i sistemi evoluti molto meno. Fai molta attenzione per evitare di queste spiacevoli situazioni. Ciao e alla prossima pillola! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici. Seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande, scrivimelo nei commenti. Ciao e al prossimo video!